Certe cose sono inevitabili. È inevitabile che lo mattino mi svegli e mi dimentichi i capelli sul comodino. È inevitabile che la mattina, tutte le mattine, Pietro rompa le palle perché non vuole andare a scuola. È inevitabile. È inevitabile che io mi dimentichi perenemente qualche effetto delle carte. È inevitabile. L'inevitabilità delle carte. Quando io cerco di non briccare o di avere la mano migliore o di avere la mano più variegata possibile, come evito l'inevitabile? Mille trucchetti. Mischi in una maniera, mischi in un'altra, fai lo shuffle, ne dividi in sei pacchetti, poi rimischi, poi le cose. Però questo serve davvero? Cioè a volte io penso che il mazzo ci parli. Davvero non è una cosa, non so, impazzito ancora. È proprio che l'ho notato proprio con alcuni mazzi, ma anche con lo stesso, quello che sto usando adesso. Tu li puoi mischiare quanto vuoi. Puoi fare lo shuffle migliore del mondo, puoi dividere le carte in mazzettini in maniera tale che ognuno poi le rimischi, poi le dà anche l'avversario che le gira, le frulli per allele, le riprendi al volo, fai mille cose. Ma se te devi discarugnata, dice, ora sicuramente ci saranno professionisti, dottorissimi, che io conosco, e li saluto, che diranno no, non è così. Perché un giocatore professionista, quello che ha in mano gioca, e nel caso vince pure. E io posso essere anche d'accordo perché, soprattutto in un gioco strutturato come Yu-Gi-Oh! Qualsiasi mossa, qualsiasi interazione, nel momento giusto o nel momento sbagliato, potrebbe rivoluzionare completamente il risultato della partita. Quindi non sono in disaccordo. Potrei dissentire sul fatto che ogni mano è giocabile. Cioè, la fortuna e la sfortuna, l'inevitabilità del mazzo, l'inevitabilità delle carte che peschi. Tu non puoi, tu hai 40 carte, e le prime 5 carte sono determinanti per tutto il resto della partita. Perché tu inizi con quelle. Non puoi inventarti e draghi per riuscire a arrivare a fine partita e dire, ok, non c'avevo niente, ho costruito questo. Puoi farlo. Puoi farlo come? Hai un mazzo che te lo permette, innanzitutto. Se hai un mazzo che non pretende, che non chiede, di avere 4-5 carte differenti per fare una combo. E' chiaro che se ce l'hai, sei già preparato. Perché se hai un mazzo come Bistia Runic, lo dico perché l'ho giocato, è estremamente difficile far coincidere tutti e tre gli archetipi che ti servono. Perché tu hai bisogno di, per partire benissimo, hai bisogno di Runic che entra. E quindi che c'hai Fontana, c'hai anche Eugene sul terreno perché ti serve per far sincro. Ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai nel momento giusto e l'unico che ti deve fermare. Cioè devi avere i sincro, perché se no tutti i sincro che c'hai te ne sbatti in nervoso. A parte il giusto Cousingele che più o meno lo metti sempre, però se sei di primo te lo sbatti in nervoso. I Bistia, perché i Bistia sono importanti lì. Fanno partite determinate combinazioni, fanno partite i sincro da 10. Ti aprono proprio le giocate, quindi lì devi avere tre archetipi, tutte e tre in mano, delle carte giuste. La probabilità che succeda è veramente, è buona, ma non è ottimale. Perché? Perché uno ci deve avere un'abilità incredibile nel giocarlo. L'altra è, ah, la pesca bene. È inevitabile questa cosa, esiste la fortuna, la sfortuna, non lo so. Non ne ho idea. Sicuramente se hai un atteggiamento positivo puoi apprendere di più, puoi assimilare più cose positive. Rispetto alla vita il tuo atteggiamento, se è positivo, riesci a vedere il meglio un po' in tutto. Ma se peschi cacca, peschi cacca. Non c'è, non c'è altro. Quando succede? Che cosa dobbiamo fare? Innanzitutto non dovremmo incazzarci, ma questo posso capire che sono il primo a non farlo. Sono proprio un pessimo studente di me stesso, perché se io pesco quelle cinque carte, vi faccio un esempio che è capitato ovviamente proprio ieri. Ho pescato cinque carte, non avevo una partenza, niente, non c'avevo una partenza, niente, non c'è una... E gioco un mazzo che con una carta parte, con una carta costruisce, cashtira. Cashtira con una carta fa tutto. Infatti se non lo fermi con una carta, lui si apparecchia. Te mette sei, sette mostri pure nel campo dell'altro. Prende, sbraga fine, fa exis, fa cose. Con una carta parte, bene. Io, regà, ieri ho aperto, ho pescato cinque, ho pescato cinque, di prima mano. Non c'avevo una partenza, non c'era niente. Ho dovuto fare sette passi. Lui è il turno mio, ha preso, ha fatto. Sono resistito, fortunatamente, perché ci avevo entrappi per campare, perché se no era finita. Il turno mio, pesco, prosp. Vabbè, almeno chiamo una partenza. Faccio prosp da sei. Faccio sta prosp da sei, regà, scavo sei. Io non vedo una partenza, niente. Niente. Non vedo una partenza, non c'è niente. Non c'erano perma, c'erano altre asce, c'erano... Non c'è una partenza. Come si fa in questi casi? Mi sono incazzato? Porca puttana se mi sono incazzato. Mi sono proprio un ferocito. Perché non è possibile. Però poi analizzo la situazione. Analizzo che quante volte succede questa cosa? Una su trenta? Ok, una su trenta è accettabile. Perché io penso che anche il mazzo più sano, più saldo, più... Anche che parte da monocarta, a volte possa briccare. Sicuramente se parti da monocarta è molto più difficile che questo succeda. Però può succedere. E devi accettarlo. È tosta accettarlo? Cazzo se è tosta. È proprio difficile. È proprio una lottura di palle accettarlo. Invece quando poi succede molto spesso, come succedeva ad esempio con Ronic Bistial, ma non succedeva Caninello perché briccavo, perché comunque avendo tre archetipi, non avendo Entra, probabilmente avevo solo engine, quindi non potevo briccare. Però al contempo ero facilmente stoppabile con Entrap. Cioè a volte io dovevo aprir con Eugene perché mi serviva Fontana, perché dovevo riciclare e quant'altro. Eugene, Perma o Ash, Bailer, passo. Anche lì non te puoi incazzare. Cioè nel senso, devi mettere, devi ascendere a partito con te stesso. Sai che se quello te fa, Ash, Perma, Bailer, cazzo ne so, Mourner, eccetera, su Eugene, tu passi. Se non hai altre cose da fare, chiaramente in mano. Se non ce l'hai, passi. Fine. Non puoi incazzate? Non è puoi incazzate, però è poco sano, perché è l'inevitabilità delle carte. Quello c'ha cinque carte e c'è assolutamente la probabilità, soprattutto se giochi tante Entrap, che questo accada. È scendere a parti con te stessi e dire voglio giocare questo mazzo? Perfetto. Devo ascoltarlo, perché il mazzo a volte ci parla. Per mesi, regà, giuro, io per mesi ho cercato di giocare a Oros, ma in tutte le salse. Chi ha seguito pure i video precedenti lo sa. Ci ho vinto pure qualche torneo, però, niente, proprio io pescavo, pescavo. e tante volte ci avevo sto cazzo di palo in mano, di api, di Duantef, che bene, dove lì, come cazzo si chiamano? Avevo in mano di primo turno, ma io vi giuro tantissime volte e mi chiedevo perché, mi incazzavo, dicevo, ma perché? 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 io e le engine di Oros adesso, tre impseti, un api e sarcofago. Fine. Poi chiaramente sono uscite, fortunatamente, le terreno e lì è andata un po' più sciolta. Però lì il mazzo mi parlava, diceva, ah sì, non mi da giocare. Fine. Fate un'altra cosa. Poi magari vedo altra gente che pesca, oh, c'ha sempre impseti in mano, c'ha sempre un triplo sarcofago in mano, che glielo spacchi e lui riprende. E' l'inevitabilità delle carte. Puoi farci qualcosa? No. Te puoi incazzare? Sì. Risolvi qualcosa? No. Quindi, la soluzione qual è? La soluzione è una sola. Se inguattiamo le carte nelle maniche.